ma vi spiego allora vi spiego come si stende la pasta come si stende la pasta c'è quello che c'è di farina s'arrombola e semina d'intra per fuori avete capito largo già come ho passato con me all'altra bella bella ecco qua arrombola nuca e di vintra per fuori sempre di vintra un palmo da mani con questo che ho parlo da mani come dice a nanna figlia c'è palmo da mani allonghi ed ha potete allungare quanto volete ma non man si mettono qualche c'è di farina e da all'altra becca per cui tempagna il peccato se non mi notava c'è un suo buon tavolo e a tavola vuole più grande c'era quando faccio una grande se non è non uno spazio avete capito quando aveva già e tutto portato in bagno ecco ma troppo c'è di farina e si piglia sempre i due volus allarga cosa fanno rotonda mia prossima tappi dica la grassezza è massimo due millimetri vedi che già già su buoni e se no può finire vini se spaziano ma buono fa questa farina fanno sì non si tagliano tra la cosa ma era siamo se asciugano belle belle ci mette molto valore e dopo tagliamo sempre con corte nuove faccio vedere su fasi asciutti vittorio quasi scelte ma io che faccio incoglio bastoni o questo non è che ci vuole l'archescenza bastone o manco da scuola medica godino speriamo bastoni e vedete tagliamo un anno mentre la mano così non mi tocca anzi certi quando ne toccano qua italiani e rimpigono e se fanno a grossezza che si vuole a larghezza che si vuole e cura lo stesso che si vuole e sopra di tagliare di me tagliamo tutti quanti e vediamo tutti devo l'ora posta accattata che non sappiamo che mentono come avranno che farina meno questa calme non prova sono strali a farina della nostra ma c'è nato molino e cabona volontà se faccio tutto che sapete che ci vuole 10 minuti ma c'è da 10 minuti cosa fanno tutta la buona volontà ci vuole facciamo subicero ecco qua qua ecco sono pronti come gli mamma armi togli un subicero ufficio a posto quando la tavola è messa quando mangia parla spesa